Nella settimana dal 28 marzo al 3 aprile, secondo i dati diffusi dal bollettino del DASO, continua a registrarsi un lieve decremento dei nuovi contagi in Sicilia. L'incidenza è pari a 40.331 casi, meno 8,49. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina, 1.238, Trapani, 935, Agrigento, 909 e Caltanissetta, 904. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra gli 11 e i 13 anni, 1.325 su 100.000 abitanti, i 6 e i 10 anni, 1.321, e tra i 14 e i 18 anni, 1.213. Le nuove ospedalizzazioni tornano a diminuire e i tre quarti dei pazienti ricoverati nella settimana risultano non vaccinati o con ciclo vaccinale non completato. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, i dati fanno riferimento alla settimana del 30 marzo, al 5 aprile, nella fascia 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 28,01% del target regionale. Nella stessa fascia d'età, 75.320 bambini, pari al 23,92, risultano con ciclo primario completato. Gli over 12 anni vaccinati con almeno una dose si attestano all'89,94%. Ha completato il ciclo primario l'88,64% del target regionale, mentre il 10,6% resta ancora da vaccinare. Al momento sono 850.231 i cittadini che possono effettuare la somministrazione aggiuntiva, ma non l'hanno ancora fatta. Complessivamente, i vaccinati con dose aggiuntiva Boster sono 2.677.722, pari al 75,90% degli aventi diritto. Dal 1 marzo sono state effettuate 1.467 somministrazioni di quarta dose ad over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi da almeno 120 giorni. Sempre dal 1 marzo sono state 1.912 le somministrazioni di vaccino Nuvax Covid, quello del Novavax.